ecco solo un breve report e per testimoniare il mare mosso di ieri appunto 26 luglio 2023 9.12 e il mare ancora mosso oggi non possiamo penso farlo mattina e poveriggio vero forse non credo quindi ancora un altro record su quello che già si aggiunge il mio ramarro è qui sconfio solo per dimostrare appunto che quando facciamo le cose noi non siamo chiacchieroni non diciamo stupitarci testimonianza è mai arrivato che c'era il battello di salvaggio qua la trasportatoria adesso guarda ci sono ancora ci sono ancora le seggiole mai arrivato qui a luni da quanto veniamo noi mai arrivato no mai guarda qua ci sono le seggiole ancora queste qui sono le seggiole di cosa che dove le tiene? dei vari posti dei dombrelloni ah già perché qualcuno usa quelle facciamo vedere quel battello di salvaggio l'ha appena messo lì era dove eravamo noi nel nostro ombrellone non è mai successo l'acqua hai mai guarda facciamo vedere dove è l'acqua la sabbia si vede ecco qua è bagnata e qui è asciutta mai successo per dimostrare che non siamo chiacchieroni è arrivato qui per la prima volta in assoluto non è mai successo a luglio parliamo mai ecco sabbia asciutta e bagnata e qui è il nostro ombrellone qui c'è la cabina questa riga qua è arrivato per luglio è un record da quanto veniamo noi dovremmo chiedere al bagnino poi quando si ricorda quando è venuto qua a luglio se è successo negli anni ancora per dietro negli ultimi 9 anni mai successo sicuro abbiamo c'eravamo sempre quindi eccolo qua qui è bagnata questa è la pasterella eccolo qui guarda qui tutta la roba guardate i gilettini ha tolto tutto tutto li sta rimettendo adesso soltanto il battello l'ha appena messo era qua ci sono i segni non so neanche se ci sono era qui il battello di salvataggio stava qua stava quindi mare monster record storico confermato è battuto il 2016 in pieno proprio e per ora è tutto saluta ciao prossimo giornalmente